Giovedì 18 ottobre 2017, tempo di protesta e di sciopero all'ABB di Terranuova Bracciolini. Infatti sono diverse decine i dipendenti, gli operai e coloro che ci lavorano all'interno che oggi hanno deciso di incrociare le braccia perché sono paventati 35 licenziamenti da parte dell'azienda, non sono bastati finora i tavoli di confronto fra regione, sindacati, sindaco di Terranuova Bracciolini e anche ovviamente l'azienda per cercare di scongiurarli, ancora sono al momento confermati 35 licenziamenti e allora tutti a protestare per cercare di salvare 35 persone da un certo licenziamento. Il corteo è partito dall'azienda, dall'ABB, per poi arrivare in piazza della Repubblica Terranuova Bracciolini dove i sindacati incontreranno il sindaco per chiedere soprattutto impegno ulteriore e maggiori certezze per questi 35 lavoratori e per scongiurare appunto gli esuberi. Siamo in un mercato dove ancora nel mondo la produzione e quindi la richiesta di prodotti per il fotovoltaio aumenta, aumenta tra il 10 e l'8% ogni anno e quindi è improponibile pensare di risolvere una questione economica semplicemente con licenziamenti. L'azienda dovrebbe riappropriarsi di un mercato, riconquistare spazi di mercato importanti a partire dall'America e diciamo con la stessa determinazione con il quale si tiene con precisione al conto economico si dovrebbe fare tutte le azioni necessarie e concrete per riappropriarsi del mercato del fotovoltaio e quindi evitare gli esuberi strutturali, dando anche dei segnali importanti per il futuro del sito e dello stabilimento. Perché è aderito allo sciopero? È aderito allo sciopero perché i licenziamenti non possono essere la giusta risposta in questo momento di crisi, ci sono altri sistemi, i dipendenti sono qui convinti che altri sistemi si possano trovare. Perché ho deciso di cioperare, perché l'unica possibilità per cercare di limitare i danni, per salvaguardare i posti di lavoro è quella di restare uniti e compatti e cercare il dialogo che ci diano delle risposte su questa situazione. Vogliamo chiarezza sul futuro dell'azienda? Perché voglio comunque sostenere questi lavoratori perché è un'azienda importante per il Val D'Arno e perché tutti dovremmo aiutare comunque i lavoratori anche se non ci riguarda direttamente, perché è sempre la nostra zona e va a difesa.